Ciao, come sempre qui con noi abbiamo il produttore della Punto Artistico SRL, il signor Donato Capoizzi. Sì, sì, buonasera. Salve. Come si trova con questa società che è comunque nuova e già abbastanza famosa, è già arrivata comunque qua a Sanremo, ha iniziato ad avere importanza? Signorina Luna, sì, diciamo che ci troviamo qui a Sanremo con la nostra piccola umiltà, con il nostro saper fare, siamo già qui a muovere i primi passi verso Sanremo e oltre, diciamo, di sì. E invece oltre a Sanremo quali altre esperienze avete in programma, quali altri progetti? Sì, abbiamo tanti altri progetti da andare avanti, di cui anche qualche tappa con il cantagiro a breve, fra 4 o 5 mesi in Puglia, siamo riusciti a prendere più di qualche visione giù da noi, esclusive, con il cantagiro che ritorna dopo tanti anni, riparte da quest'anno. Noi siamo qui a Sanremo a rappresentare proprio il cantagiro, diciamo. E oggi invece qui con noi abbiamo anche, lo facciamo presentare al signore, visto che è comunque uno dei suoi allievi, torri e golette. Sì, Crian fa parte della nostra scuderia di punto artistico e nonché qui a Sanremo è stato il primo della riserva delle nuove proposte, il primo proprio per un puntino era lì sul palco, si è abbastanza fatto evidenziare, è abbastanza bravo il nostro qui cantante. Allora, complimenti, ti è piaciuta comunque questa esperienza, nonostante sia andata un filino male, ci è andata un po' di sfiga, diciamo. Quel discorso per un pelo, sì, ci rimani male, però in qualche modo ti sei fatto un po' evidenziare, attraverso poi il testo e la lirica e la canzone. E non è comunque anche male arrivare proprio a un pelo, è comunque una soddisfazione. Lo so, mi fa capire che in qualche modo ti sei fatto evidenziare e di conseguenza anche lo nostro appunto artistico. E come ti trovi con questa società che ti segue e ti aiuta? Abbastanza bene. Sei contento? Certo. Allora, grazie, per oggi vi salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.